salve a tutti ragazzi video misterioso registrato nei cieli del marocco tre ora prima del famoso terremoto che ha colpito fortemente il marocco guardate qui ragazzi strani oggetti nei cieli sinceramente non so che dirvi io penserei subito a ufo oggetti non identificati che volevano avvisare che qualcosa sta per accadere in marocco come sempre ragazzi lascio a voi l'ultima parola io sinceramente non saprei cosa dirvi anche se come ben sapete io penso che siano degli oggetti alieni che volevano avvisare che qualcosa sta per sta per accadere in marocco come sempre al prossimo video ragazzi ma soprattutto al prossimo mistero rivediamolo di nuovo sono tre cinque sei oggetti ragazzi che vengono registrati da alcuni passanti che stavano lì a passeggiare per le strade del marocco come sempre ragazzi lasciate il commento al prossimo video ma soprattutto al prossimo mistero